Il centro-sinistra del neosindaco Diego Ferrara e il polo civico di Paolo De Cesare governeranno Chieti per i prossimi cinque anni. Inizia a prendere forma il nuovo consiglio comunale. Per il centro-sinistra siederanno a Palazzo di Città Stefano Rispoli, Chiara Zappalorto, Pari De Paci, Barbara Di Roberto, Valentina De Luca, Alberto Chiavaroli, Enrico Iezzi, Edoardo Raimondi, Alberta Giannini, Silvio Di Primio, Luigi Febo, Teresa Giammarino e Andrea Rondinini. In maggioranza anche De Cesare, Manuel Pantalone, Gabriella Ianniro, Silvia Di Pasquale, Serena Pompilio, Vincenzo Ginevra e Damiano Zappone. Un seggio anche per il pentastellato Luca Micone che potrebbe decidere di far squadra con la Giunta. All'opposizione invece Bruno Di Iorio per Chieti Viva, Giampiero Riccardo e Maurizio Costa di Forza Chieti, i leghisti Fabrizio Di Stefano, Mario Colantonio, Liberato Aceto ed Emma Letta e Giuseppe Giampietro, Carla Di Biase, Roberto Miscia per Fratelli d'Italia e il centrista Mario De Lio.